aveva conosciuto tempi migliori nonostante la sua infermità e la sua miseria a 15 anni una carrozza gli aveva schiacciato tutte e due le gambe sulla strada maestra di varville da allora chiedeva le lemosina trascinandosi lungo le strade nelle aie dei casolari ciondolando sulle grucce che gli avevano fatto arrivare le spalle all'altezza delle orecchie pareva che la sua testa fosse sprofondata fra due montagne il parroco delle billetè l'aveva trovato in fascia in un fossato la vigilia del giorno dei morti per questo era stato battezzato nicolà toussaint era stato allevato per carità non aveva avuto alcuna istruzione era diventato storpio per aver bevuto qualche bicchierino d'acqua vite offerto gli dal fornaio del paese che voleva divertirsi e da allora girovagando non sapeva far altro che tendere la mano qualche tempo prima la baronessa d'avarì gli permetteva di dormire in una specie di canile pieno di paglia accanto al pollaio nella fattoria alnessa al castello e nelle giornate di fame nera era sicuro di trovare sempre in cucina un tozzo di pane e un bicchiere di sidro spesso aveva anche qualche soldo che la vecchia signora gli buttava all'alto della scala o dalle finestre della sua camera ora lei era morta nei paesi non gli davano più nulla lo conoscevano troppo bene erano stanchi di lui perché lo vedevano da 40 anni trascinare da una casupola all'altra il suo corpo cencioso e deforme su quelle due zampe di legno ma lui non se ne voleva andare perché non conosceva altro sulla terra che quell'angolo di terra quei tre o quattro casali tra cui aveva trascinato la sua miserabile vita aveva stabilito dei confini alla sua mendicità e non li avrebbe mai varcati non sapeva se il mondo si stendesse ancora oltre gli alberi che gli avevano sempre chiuso all'orizzonte non se lo chiedeva nemmeno e quando i contadini stanchi di trovarlo sempre nei loro campi o lungo i fossati gridavano perché non te ne vai negli altri paesi invece di continuare a trascinare qui le tue grucce lui non rispondeva e si allontanava preso da una vaga paura dell'ignoto la paura del povero che teme confusamente mille cose volti nuovi ingiuri e sguardi sospettosi di chi non lo conosce e i gendarmi che vanno a due due sulla strada e che per istinto lo spingevano a nascondersi nei cespugli o dietro un mucchio di sassi appena li vedeva di lontano luccicanti sotto il sole trovava all'improvviso una strana agilità un'agilità inaudita per raggiungere un nascondiglio capiton volava giù dalle grucce si lasciava cadere come uno straccio si appallottolava si faceva piccolo piccolo invisibile appiattito come una lepre nella tana confondendo i suoi stracci sudici col colore della terra eppure non aveva mai avuto a che fare con loro ma quella paura se l'aveva nel sangue come se paura e astuzia gliel'avessero trasmessa ai genitori che non aveva mai conosciuto non aveva un rifugio un tetto una capanna un riparo l'estate dormiva dove capitava ed inverno si infilava nei fienili o nelle stalle con un'abilità straordinaria se la sviniava sempre prima che si accorgessero della sua presenza conosceva tutti i buchi che permettevano di entrare negli edifici e poiché a forza di usare le stampelle le brazze gli erano diventate fortissime riusciva ad arrampicarsi con la sola forza dei polsi fino ai granai dove rimaneva talvolta quattro o cinque giorni senza muoversi se nei suoi giri aveva raccolto provviste sufficienti viveva come gli animali selvatici in mezzo agli uomini senza conoscere nessuno senza voler bene a nessuno suscitando nei contadini soltanto indifferenza disprezzo e rassegnata ostilità l'avevano soprannominato campana perché si dondolava tra le grucce come una campana tra i due bilichi erano due giorni che non mangiava nessuno gli dava più niente non ne volevano più sapere di lui le contadine dagli usci gli urlavano da lontano vedendolo venire insomma te ne vuoi andare vuole a nulla non sono neanche tre giorni che ti ho dato un pezzo di pane e lui girava sui suoi sostegni e se ne andava nella casa vicina dove era accolto nello stesso modo da una porta all'altra le donne gli dicevano non si può mica dar da mangiare a questo fannullone per tutto il resto dell'anno eppure il fannullone aveva bisogno di mangiare tutti i giorni aveva già fatto il giro di Saint-Hilaire varville e le bilette senza aver raccolto un centesimo o una vecchia crosta non gli rimaneva altra speranza che turnolè doveva percorrere due leghe di strada ma non ce la faceva più a trascinarsi tant'era stanco con la pancia vuota come le tasche tuttavia si mise in cammino era di sembra un vento gelido soffiava nei campi fischiava tra i rami spogli le nuvole galoppavano nel cielo basso affrettandosi chissà dove lo storpio camminava lentamente spostando con pena infinita una gruccia dopo l'altra poggiandosi sulla gamba storta che gli era rimasta terminante in un piede equino avvolto in stracci ogni tanto si sedeva nel fossato e riposava per qualche minuto la fame gettava nella sua anima confusa intorpidita un senso d'angoscia aveva un'idea fissa mangiare ma non sapeva come per tre ore si affannò su quella strada interminabile poi quando entrevide gli alberi del villaggio affrettò l'andatura il primo contadino che incontrò al quale chiese le lemosina gli rispose ancora qui vecchio sbafatore insomma non ci liberiamo mai di te campana si allontanò di porta in porta lo bistrattarono lo mandarono via senza dargli nulla ma lui continuava il suo giro paziente e ostinato non raccolse nemmeno un soldo allora andò per i casolari trasinandosi sul terreno molle di pioggia e così sfinito che non riusciva più ad alzare le grucce dappertutto fu scacciato era una di quelle giornate fredde e tristi in quei cuori si chiudono alla pietà lo spirito si nasprisce l'anima è cupa le mani non si aprono né per dare né per soccorrere quando ebbe finito il giro di tutte le case che conosceva andò a buttarsi sull'orlo di un fossato lungo il cortile di mastro scichè si sganciò come dicevano per indicare il modo in cui egli si lasciava cadere dall'alto delle grucce facendosele scivolare lungo le ascelle rimase lì immobile a lungo torturato dalla fame ma troppo abbrutito per rendersi conto della sua infinita miseria aspettava chissà che cosa in quel vago stato di attesa che esiste sempre in noi aspettava in quell'angolo di cortile sotto il vento gelido il misterioso aiuto che sempre si spera dal cielo o dagli uomini senza chiedersi né come né perché né da chi potesse giungerci un branco di galline nere passava cercando il cibo nella terra che nutre tutte le creature ad ogni istante afferravano col becco un granello o un invisibile insetto poi continuavano la loro ricerca lenta e sicura campana le guardava senza pensare a nulla poi gli venne più al ventre che in testa la sensazione più che l'idea che una di quelle bestie sarebbe stata buona da mangiare arrostita su un bel fuoco di legna secca non lo sfiorò nemmeno il dubbio che stava per commettere un furto preso un sasso a portata di mano e grazie alla sua abilità ammazzò sul colpo la gallina che gli stava più vicina il volatile calde di fianco sbattendo le ali gli altri scapparono dondolandosi sulle loro esili zampe e lui inerpicandosi di nuovo sulle grucce si avviò a raccogliere la sua preda muovendosi anche lui come le galline mentre stava per raggiungere quel piccolo corpo nero macchiato di rosso sulla testa si sentì dare uno spintone tremendo sulla schiena che gli fece sfuggire le grucce e lo mandò a rotolare dieci passi più avanti maestro chicchè inviperito si avventò sul ladro lo tempestò di pugni picchiando come un forse nato come un contadino derubato coi pugni e con le ginocchia su tutto il corpo dell'infermo che non poteva difendersi accorse la gente della fattoria e a sua volta assieme al padrone cominciò a massacrare il mendicante quando furono stanchi di picchiare lo raccolsero lo portarono via e lo rinchiusero nella legnaia mentre qualcuno andava a chiamare i gendarmi il mendico mezzo morto sanguinante e divorato dalla fame restò buttato per terra venne la sera poi la notte poi l'aurora non aveva ancora mangiato verso mezzogiorno vennero i gendarmi e aprirono la porta con precauzione aspettandosi che quello resistesse poiché maestro chicchè aveva fatto credere di essere stato aggredito dallo straccione e di essere riuscito a difendersi a gran fatica il brigadiere gridò su alzati campana non ce la faceva più a muoversi tentò di sollevarsi sulle grucce ma non ci riuscì credettero a un inganno a un'astuzia a una cattiva intenzione del malfattore e i due uomini armati lo agguantarono rudemente lo di peso sulle stampelle la paura aveva ferrato la paura istintiva dei cinturoni gialli la paura della selvaggina davanti al cacciatore del topo davanti al gatto riuscì con sforzi sovrumani a tenersi in piedi avanti disse il brigadiere si provò ad andare tutta la gente della fattoria lo guardava muoversi le donne gli tendevano il pugno gli uomini sghignazzavano lo ingiuriavano finalmente l'avevano preso se ne erano sbarazzati camminava tra le guardie e trovò la disperata energia necessaria a trascinarsi ancora fino alla sera abbruttito e troppo spaventato per capire ciò che gli stava succedendo le persone che incontravano si fermavano a guardarlo passare e i contadini mormoravano sarà qualche ladro era notte quando arrivarono al capoluogo del cantone lui non era mai andato così lontano non si immaginava quel che stava accadendo né quel che poteva accadere tutte quelle cose terribili e impreviste quei visi e quelle case nuove lo annientavano non disse nemmeno una parola non avendo nulla da dire perché non capiva più nulla da tanti anni non parlava più con nessuno e aveva perso l'uso della favella i suoi pensieri erano troppo confusi per potersi esprimere in parole lo rinchiusero nella prigione del paese i gendarmi non pensarono che potesse aver bisogno di mangiare e lo lasciarono lì fino al giorno seguente quando lo andarono a prendere per interrogarlo di prima mattina lo trovarono stecchito per terra che sorpresa grazie a tutti